Sufficiente andare in autostrada per vedere un allevamento intensivo. Tra autocarri sulla strada e capannoni ai margini della strada c'è solo l'imbarazzo della scelta. Animali rinchiusi ovunque. Gli allevamenti intensivi, quelli ai margini della strada, sono quegli allevamenti che, tanto per capirci, trovano la loro sede in quegli orrendi edifici industriali che deturpano il paesaggio in lungo e in largo e nei quali sono alloggiati animali in condizioni indicibili. Rinchiusi in gabbie strettissime, costretti ad alimentazione forzata, privati di ogni libertà. Anche volendo lasciar perdere la pena per chi ci riesce, tali condizioni sono la causa prima e principale dell'esplosione degli scandali alimentari. Chi non ricorda la mucca pazza ed il pollo alla diossina? Il sistema per ottenere la famigerata carne bianca dai vitelli consiste nello strappargli al terzo o quarto giorno di vita alle madri, collocarli all'interno di box larghi 40 e lunghi 150 cm ovviamente e legarli con una catena al collo per impedire loro ogni movimento. Mentre vengono nutriti con pappe semiliquide iperproteiche viene loro assolutamente negata l'acqua e ciò per indurli a nutrirsi più velocemente possibile. Il tutto causa arsura e dissenteria e le inevitabili ulcere portano a quella anemia tanto ricercata che sbianca la carne. Dopo 13-15 settimane macello. Ai maiali invece occorre tagliare la coda, le orecchie, oltre a eliminare i denti. Tale trattamento è dovuto al fatto che questi animali in condizioni di stress reagiscono mordendo e mordendosi. Grazie ai metodi di allattamento artificiale, il maialino viene svezzato 6-12 ore dopo la nascita. I frequenti azzoppamenti sono quasi un dettaglio. Azzoppamenti dovuti ai pavimenti degli ambienti in cui sono reclusi che qualcuno ha disegnato ad asticelle distanziate tra di loro per far passare gli escrementi. Non va molto meglio alle galline e al pollame in genere. Alla nascita i pulcini maschi vengono scartati, gettati e triturati, vivi naturalmente. Gli animali da allevare vengono chiusi in gabbie piccolissime. Nello spazio di un foglio a quattro trova posto una gallina o vaiola. Un pollo da carne vive in uno spazio ancora più ristretto. Per reazione le galline si strappano le piume e si mangiano a vicenda. Per limitare la cosa vengono sottoposte al taglio del becco, taglio chiamato in gergo ghigliottina. Vengono inoltre irradiate con infrarossi in modo da alterare i bioritmi. L'alimentazione consiste in pastoni fatti con lo loro stesso guano, con scarti alimentari e con residui di ogni genere. Risparmio, per carità di patria, la descrizione di come si otteneva fino a poco tempo fa il tanto prelibato patè di fegato di oca. Il metodo addolcito recentemente, per legge, è pur sempre qualcosa di rivoltante. Tutti questi animali risultano così malati che devono essere praticate in interrotte terapie antibiotiche, con il risultato che si può facilmente immaginare sia sull'animale che sull'uomo. Un dato che pochi conoscono, e che da solo la dice tutta, è che la metà della produzione mondiale di antibiotici è destinata agli allevamenti animali. E non occorre essere medici per sapere che l'abuso di antibiotici è all'origine della resistenza batterica e quindi di una bella serie di problemi. facendo un po' di calcoli, ogni anno un italiano ingerisce in questo bel modo circa 9 grammi di antibiotici, equivalenti alla somministrazione di 4 terapie antibiotiche. Che fare? Una cosa da fare sarebbe vietare gli allevamenti intensivi. Davvero così difficile creare allevamenti sostenibili? Ma questa forse è utopia. Un po' meno utopica sarebbe prendere la decisione di evitare qualsiasi prodotto proveniente da allevamenti intensivi. Naturalmente c'è un problema. La legge non prevede che venga riportato il tipo di allevamento, a meno che non sia di tipo biologico. Allora la soluzione sarebbe scegliere biologico. Ma non tutti possono. Il problema è economico. I vegetariani sono in grande aumento in tutto il mondo. Non è difficile capire il perché. Allora la soluzione Grazie.